Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Oggi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite Alessandro Masi, segretario generale della società Dante Alighieri. Benvenuto Masi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Masi, la Dante Alighieri nasce nel 1889 da un gruppo di intellettuali che all'epoca erano guidati niente un po' di meno che da Giosuè Carducci e poi quattro anni dopo nel 1893 diventa ente morale in virtù di un reggio decreto. Lo scopo della Dante Alighieri è quello di tutelare e diffondere lingua e cultura italiana nel mondo, cercando di ravvivare quei legami spirituali dei nostri tanti connazionali all'estero con la loro madrepatria e cercando anche di alimentare però tra gli stranieri l'amore e il culto per la civiltà italiana. Le chiedo Masi in che modo voi siete organizzati all'estero per raggiungere gli scopi sociali e soprattutto qual è fuori dai nostri confini nazionali la vostra principale attività? Beh, la Dante è una rete globale, parte da lontano nella storia come dice lei e si va strutturando nell'arco di più di un secolo ormai perché se parliamo del 1889 parlavamo del diciannovesimo secolo, abbiamo attraversato il ventesimo e siamo entrati nel ventunesimo, quindi siamo al terzo secolo di attività. Detto questo è una rete globale, dicevo, noi siamo presenti in maniera capillare in tutto il mondo, i 400 sedi che vanno dalla terra del fuoco a Vladivostok, quindi 170 sedi in Europa, 100 in Argentina, tante in America centrale, in America del Nord, Africa un po' meno e invece quello che è interessante adesso si sta aprendo il Medio Oriente e l'Oriente e dico per esempio due sedi su quali stiamo lavorando, è l'Oman, in Oman, in Qatar, in Kuwait e poi c'è tutto il tema della Cina, mentre in Giappone ci siamo quasi da sempre. Quindi questo è il quadro un po' globale della presenza di bandierine, tricolori italiane nel mondo che significa scuole, che significa professori, significa biblioteche italiane, attività e via discorrendo. Ecco, Dante Alighieri però non è soltanto presente all'estero perché in Italia leggevo che siete presenti con ben 81 comitati che sono distribuiti in quasi tutte le nostre province. Che tipo di attività fate in Italia? Beh diciamo questa è l'attività che si sta ristrutturando e trasformando. Nello statuto diciamo i comitati italiani e nello spirito originario erano quelli che dovevano sostenere la rete estera, dove erano presenti i nostri connazionali, ma ormai i nostri connazionali all'estero sono i più ricchi e famosi di noi in Italia. Quindi diciamo che lo scopo poi via via è passato nel sostegno dei giovani nelle scuole. Oggi il tema è invece quello dell'integrazione, l'immigrazione, i corsi di lingua e quindi un'azione particolarmente interessante che abbiamo fatto e stiamo facendo in questi anni e con il mistero dell'interno proprio per l'integrazione a scopo sociale sulla cittadinanza, sul lungo soggiorno e soprattutto sul lavoro, perché ormai le quote di immigrati in Italia superano i 5 milioni, ormai credo saremo verso i 6 milioni di stranieri operanti in Italia con attività che vanno da partite IVA, operai, contadini, ma anche insomma a livello più alto le imprese straniere con stranieri ormai italianizzati ci sono. Bisogna che questi amici dell'estero siano anche integrati attraverso la lingua. Questo lo diceva quando iniziamo il presidente Ciampi all'epoca, tempi più brevi per il diritto di cittadinanza, ma condivisione della carta costituzionale e conoscenza certificata della lingua italiana. E appunto il certificato è uno dei temi fondamentali di questa attività in Italia. Ecco, Masi, quest'anno ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e la società Dante Alighieri con il patrocino del Comitato Nazionale di celebrazioni per il settimo centenario appunto della morte di Dante, istituito presso il MIBACT, promuoverà in chiave turistico letteraria le località italiane che all'epoca sono state visitate dal sommo poeta o comunque citate nella sua divina commedia. Ci può parlare di questo interessante progetto? Sì, senz'altro, mi fa piacere, lo dico perché non è soltanto formale il mio piacere, è sostanziale, nel senso che questo progetto nasce cinque anni fa, in vista del 2021, con il professor Giulio Ferroni dell'Università di Roma, al quale abbiamo chiesto di viaggiare in Italia laddove Dante indica le località, siano queste città maggiori, di provincia, paesini o addirittura, si tratta addirittura anche di piccole contrade che il professor Ferroni ha visitato per noi, poi redigendo un libro di 1200 pagine, c'è questo racconto straordinario intitolato l'Italia di Dante e noi da questo per il 2021 stiamo traendo tra le tante iniziative che stiamo facendo, ma questa ci interessa molto, perché stiamo sviluppando in un'app un itinerario letterario, quelli che si chiamano oggi di itinerari consapevoli, cioè non quindi quel turismo del Mori e Fuggi, ma un turismo colto che partendo dall'estero può scegliersi un itinerario dantesco che molto spesso coincide con le grandi città d'arte, grandi città di cultura, quindi Dante ancora una volta è fondamentale perché ci introduce anche a una lettura dell'Italia che non è la solita Italia, ma la leggiamo attraverso la Divina Commedia, attraverso i versi della Divina Commedia, quindi se si va a Siena e si trova lì sul corso, nel brano in cui c'è Pia dei Tolomei, magari è bello ricordare andando a Siena chi è Pia dei Tolomei, che cosa è successo a questa povera donna e perché Dante poi la mette nell'inferno, quindi insomma, e quindi voglio dire, noi stiamo facendo tutto questo lavoro per dare soprattutto a chi viene in Italia una chiave di lettura del nostro paese. Ecco, molto bene, Masi, ricordiamo che lei è uno storico dell'arte, però il suo impegno nella cultura non si ferma al ruolo di segretario generale della Dante Alighieri, perché è da poco uscito anche un suo nuovo libro dal titolo In Viaggio con l'arte, libro pubblicato per la Loescer Editore, scritto a più mani insieme a Chiara Barbato e Gaia Chiu-Ciu, un libro che racchiude dieci racconti illustrati per scoprire la meravigliosa lingua dell'arte, un libro che avrà sicuramente Masi un ruolo da protagonista nel panorama dell'editoria dell'italiano per stranieri, perché questo è il target di popolazione a cui le si rivolge, così come sottolineato anche nella sua introduzione al volume dallo stesso ministro dell'Università di Ricerca Gaetano Manfredi, che ha definito In Viaggio con l'arte un vero e proprio strumento semplificato, queste le parole di Manfredi, quindi uno strumento semplificato e chiaro, dice Manfredi, per raggiungere lo scopo di rafforzare la conoscenza della lingua italiana negli studenti internazionali in Italia. Le chiedo Masi come le è venuta l'idea di questo libro e in che modo può aiutare a comprendere l'assoluta eccellenza della nostra storia artistica e del nostro grande e unico patrimonio culturale? Guardi, io come nasce un'idea è sempre un po' difficile dirlo perché l'idea nasce da tante cose, però io ho questo master che seguo da molti anni per l'Università Yulm qui a Roma sulla preparazione di manager per i beni culturali, in particolare per i musei. Mi sono reso conto quanta assenza di informazioni ci sia, soprattutto tra i nostri e immaginate per gli stranieri che insomma sono desiderosi di venire in Italia perché gli uffizi quanto è bello, l'Accademia di Venezia quanto è bella, il Museo Agizio di Torino quanto è bello. Ecco, facciamoli venire un po' consapevolmente, quindi abbiamo creato, intanto è un libro che ci sono i fumetti, è costruito a fumetti, ogni visita parte con tre pagine, quattro pagine illustrate da fumetti, da dialoghi. Questi dialoghi vengono poi sintetizzati in esercizi e la cosa più importante è che vengono poi queste parole diventano un lemmario, diventano cento parole dell'arte con i quali si può viaggiare in Italia, immaginate per uno segnero dire tempera all'uovo e dirgli che non è una frittata, ma è una tecnica antica che nel 1200 e prima ancora si usava per mischiare a posto dell'acqua i colori a tempera, per cui noi abbiamo ancora dopo 800 anni dei colori brillantissimi, non è un mistero, è la natura che fa o colla di pesce, che non è un piatto di pesce, ma è una colla di coniglio, non è uno stufato, insomma, quindi cose anche spiziosi da questo punto di vista, ma poi soprattutto armare tutti quegli staglieri, mi riferisco molto agli americani che da questo punto di vista vengono in Italia sbalorditi di stare di fronte a una tavola dipinta che ha 800-900 anni e lì si può iniziare questa bellissima avventura nell'arte italiana. Questo è un supplemento che purtroppo la didattica italiana non ha mai contemplato, pur parlando sempre della ricchezza del nostro patrimonio artistico, spesso ci dimentichiamo di creare le armi o gli strumenti, diciamo meglio ancora gli strumenti, per comprenderlo, questo patrimonio tanto decantato, il famoso petrolio della nazione. Molto bene, direttore Masi, allora io la ringrazio per questa chiacchierata, sicuramente sarà di grande interesse un po' per tutti i nostri ascoltatori, curiosare anche se italiani tra le pagine di questo suo ultimo libro, per scoprire anche da italiani le bellezze del nostro patrimonio che spesso e volentieri sono ai tanti ancora sconosciute. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.